Al Festival Francescano 2014 è ospite fra Fabio Scarsato che è il direttore del mensile Il Messaggero di Sant'Antonio ed è qui oggi per presentare un'iniziativa molto bella, molto particolare, nuova del Messaggero di cui appunto chiediamo a lui di presentarcela, di dirci qualcosa in anteprima. Certo, prendiamo l'occasione di questo festival appunto Francescano e anche della presenza di Suore Elena Bosetti che con la parola di Dio ci sa davvero fare per presentare l'ultima opera editoriale dell'edizione Messaggero di Padova e cioè la Bibbia Francescana, un'operazione a cui abbiamo molto lavorato, a cui molto tenavamo proprio per quello che ha significato in fase di preparazione siamo riusciti a coinvolgere una sessantina di francescani di tutte le razze, di tutti i colori, di tutti i tipi, frati, suore, laici, giovani, anziani, sposati, persino qualche francescano o anglicano in giro per il mondo, dallo Zambia all'Argentina, nel tentativo di offrire alle persone che acquisteranno questa Bibbia la possibilità di approfondire alcuni aspetti della parola di Dio ma attraverso la spiritualità, attraverso ciò che in qualche modo ci hanno testimoniato e ci hanno lasciato in eredità i nostri grandi San Francesco e Santa Chiara. La presenza del Messaggero a quel Festival Francescano è una presenza ormai storica, consolidata. Come vedi questa storia del Festival, questa esperienza del Festival e un po' il senso anche della vostra presenza all'interno di questa manifestazione? Credo che sia proprio simile al senso del Festival, cioè riuscire ad essere presenti come Francescani, nel nostro caso, poi come Francescani che hanno un particolare percorso pastorale se così lo vogliamo chiamare, cioè l'editoria, le riviste, i libri essere presenti in mezzo alle strade, in mezzo alle piazze, in mezzo alla gente nel tentativo di andare a farci conoscere, quindi di sperare di portare il nostro messaggio che è l'unico messaggio, cioè quello di Cristo, di portarlo a chi in realtà magari non ci conosce non ci avrebbe mai conosciuto, non ci avrebbe mai frequentato. Se sei un uomo di comunicazione, c'è un servizio nell'ambito della comunicazione specifico per i Francescani? Sì, se no non saremmo degni seguaci di San Francesco che credo che sulla comunicazione verbale e non verbale ha davvero impostato tutta la scommessa della sua avventura cristiana.